Oltre alla sicurezza e alla privacy delle monete in wallet in sé, esistono anche alte preoccupazioni circa la stabilità e la sicurezza di Bitcoin che merito la nostra attenzione. Questi rischi sono inscindibili dal design di Bitcoin e dal suo giovane ecosistema e sono spesso al di fuori del nostro controllo. Anche se esistono poche cose che le persone normali possono fare per evitarli, comprenderli ci aiuta a capire Bitcoin nel suo insieme e ci consente di prendere decisioni migliori circa quanto possiamo fidarci della rete. I sostenitori di Bitcoin pubblicizzano quest'ultimo come una rete decentralizzata che non può essere controllata da nessuno. In effetti l'esperimento di Bitcoin, che è attualmente valutato ad oltre 100 miliardi di dollari, è quasi impossibile da chiudere. Nemmeno i suoi utenti sanno come spegnerlo. Alcune cose ovvie potrebbero fermare Bitcoin in un battibaleno, ma spesso causano diverse complicazioni globali e sono loro stesse estremamente complicate da attuare. Scopriamo assieme quali sono.